Carissimi amici buongiorno in questa fredda e assolata domenica stiamo a parlare ancora di Liliana è un argomento che ormai prende tutte le discussioni anche se forse ne stiamo parlando troppo spesso ieri sera ero a cena con amici e poi il discorso gira e gira sulle varie cose è tornato proprio su questo discorso ora vorrei puntualizzare che cosa stamattina che proprio traendo spunto da quello di cui ho parlato ieri sera a qualcuno non sono chiari alcuni elementi che secondo me possono sicuramente portare a una svolta perché qua adesso ci sta poco da fantasticare su questo caso perché ormai penso che sia assodato che il suicidio sembra veramente un elemento quasi secondario a questo punto perché per le modalità perlomeno con cui è stato trovato il corpo per il fatto che la busta non era nemmeno stretta al collo sembra un qualcosa di inverosimile quindi la discussione su qualcosa veste veste sui sospettati ora parliamoci chiaro fatto salvo un ipotetico terzo uomo che come abbiamo detto può stare soltanto nella fantasia perché visto tutto quello che ci siamo detti non è pensabile che appaia un terzo uomo che sia anche una sorta di maniaco che fa questa mensiscena quindi dov'è il centro della discussione? è un movente economico legato al marito Sebastiano o è un movente diciamo pseudo passionale legato a questo Claudio Serpin che dice qualcosa di vero o è un mitomane? ora voi sapete la mia posizione ieri sera ne abbiamo discusso ora il problema qual è? che l'atteggiamento diciamo del marito Sebastiano certamente è sempre stato un atteggiamento diciamo di colui che sa tutto che organizza che ha un controllo della situazione che che diciamo si posta appresso questa moglie che questa moglie che diciamo quasi accondiscendente ai suoi voleri e perché è un diciamo un po' megalomane senz'altro diciamo come atteggiamento però non abbiamo mai avuto diciamo il sentore che questa sua presenza prorompente nella famiglia sia frutto diciamo di una prevaricazione violenta oppure di una imposizione non è forse giusto certamente il rapporto tra marito e moglie in questo senso qua che come sapete deve essere sempre e comunque di tipo paritario come è giusto che sia però non è mai emerso cioè nemmeno dalle testimonianze né di amici né di familiari né di parenti né di amiche stritte che ci sia stato mai diciamo qualche episodio vuoi di di crisi di violenze di alterchi un qualcosa un qualcosa che che avesse dato qualche campanello d'allarme e questo è un dato di fatto anche questi pseudo amici che dicono sì però noi andavamo d'accordo con Liliana lui era un po' così si presentava a ore di pranzo era un po' invadente Liliana gli allacciava le scarpe diciamo non è un tipo di amicizia questo non è essere amici perché se è un'amicizia occasionale va bene dice io non lo conoscevo bene ma amicizia di 10 di 15 anni di 20 anni dopo che siete andati insieme a decine e decine di posti viaggi eccetera e poi rinnegare così tradire così diciamo insomma con queste critiche di basso profilo non è una cosa bella questo per quanto riguarda l'amicizia poi che cosa potrebbe aver fatto diciamo il Sebastiano il Sebastiano il momento economico e l'abbiamo escluso già il momento economico non c'è da niente se non questi 50.000 euro che mai sono stati toccati non c'è stato nessun tipo di movimento la vita di Sebastiano è sempre stata quella più o meno negli ultimi anni e poi soprattutto fattualmente lui non 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 è possibile che il giorno 14 stesse in quella zona intorno al boschetto là dove poi è stato ritrovato il corpo in quella zona lì non c'era non c'era per l'intera mattinata perché mentre Liliana uscì alle 8.30 parecchio tempo prima 7.30 8.90 era uscito il Sebastiano che aveva fatto il suo giro per pescherie macellerie eccetera a consegnare i suoi coltelli quindi sono state acquisite decine e decine di testimonianze e in effetti diciamo che è chiara la cosa è chiara la cosa a meno che non si pensi che Liliana non si è morto i 14 che si è morto molti giorni dopo ma allora sarebbe ancora più paradossale perché dove mai sarebbe potuto andare una persona che l'avesse anche soppressa in qualche modo quel giorno poi avrebbe nascosto il corpo dove come non è possibile invece l'altro personaggio il Claudio Serpini purtroppo è un personaggio che centra centra in questa storia perché si inizia innanzitutto con quella famosa telefonata delle 8 e 22 in cui a suo dire da Liliana gli avrebbe detto io sto venendo faccio un po' più tardi perché vado al centro di telefonia ora il centro di telefonia non è andata anche se all'epoca si prendevano pure gli appuntamenti nessun appuntamento addirittura i telefoni lasciati a casa quindi non poteva essere e e il Claudio Serpini non ha alibi innanzitutto non ha alibi cioè non ha nessuno che possa testimoniare in quella mattinata lui dove era noi sappiamo soltanto che a un certo punto eh verso già verso le le undici di di mattina le dieci e mezza già comincia a dare allarme a destra e a manca telefonata ai vicini di casa telefonata a Sebastiana eh si muove eh cerca la 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 zia di 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 Lilli insomma è diciamo pure se fosse stato come dire un amante come lui si definisce è un po' troppo sopra le righe ma sembra che poi questo tipo di amore di questa storia sembra che poi alla fine non esista non esista perché non è a conoscenza nessuno nemmeno il fratello con il quale Liliana si confidava tutto nemmeno quelle poche amiche intime a cui Liliana confidava pure le cose nessuno ne sapevano niente ne avevano visto niente e quindi questo fatto la medaglietta ci siamo visti 40 anni fa il 16 dicembre il 19 dicembre sono tutte cose della sua fantasia aveva anche detto che si scambiavano i messaggi amorosi eccetera poi dal controllo dei cellulari è già scaturito che non ci sono questi messaggi quindi nel meno della memoria recuperata non ci sono e quindi lui ha ripiegato sul fatto no le cose me le diceva a voce quindi non ci sono più i messaggi ma poi voglio rammentare a chi diciamo non segue passo passo la cosa che ci sono anche degli indizi che per carità forse non significano niente ma qualche sacco nero trovato nella macchina di di Claudio che è dello stesso tipo di quelle che stavano addosso a Liliana come pure con dentro bottigliette simili a quella di trovare vicino al corpo di Liliana poi quel lapsus guardate ci sono dei particolari quel lapsus quando in diretta la giornalista nel momento in cui fu ritrovato il corpo che stava intervistando il Claudio e la giornalista disse è stato ritrovato il corpo sembra che sia avvolto in delle buste e lui e lui subito intervenne dicendo dicendo ah ma che cosa brutta essere messi in questi sacchi neri cioè gli uscì fuori sono fatti dei sacchi neri quando di sacchi neri non si era parlato ancora da nessuna parte potevano essere delle buste normali di vario colore trasparenti lui parlò subito di sacchi neri ora non significa niente può non significare niente però però secondo me qualcosa qualcosa da indagare in tal senso ci sta è inutile che creiamo gli schieramenti di quel fiechi bellini noi stiamo ricercando la verità qualcuno mi dice ma no perché difendi Sebastiano io non difendo nessuno e sono pronto anche a cambiare idea cioè se emergeranno delle prove che metteranno come dire in risalto qualche responsabilità di Sebastiano perde non so induzione al suicidio eccetera io sono pronto perché poi facciamo lavoro di giornalismo non è che facciamo lavoro che prendiamo le parti a prescindere come pure voglio sottolineare ancora una volta quell'intervista raccapricciante di quell'amico di Claudio questo Fulvio Copalero che diceva io sono andato lì a cercare il corpo e cercavi il corpo quando invece era solo una sparizione che andò a cercare il corpo come lo diceva proprio in quel giardino dell'ospedale psichiatrico dicendo io sono passato lì vicino peccato che non l'ho vista perché avevo un presentimento parlavo di presentimento e poi soprattutto quando disse poi io sono andato su internet a cercare se un uomo un uomo anziano che avesse ucciso Liliana avrebbe potuto avere uno sconto di pena ma che cosa sono questi ragionamenti come ti viene in mente di andare a cercare l'uomo anziano che se uccide una donna può avere uno sconto di pena allora forse un qualcosa tu sai non lo so questo secondo me su questo gli inquirenti devono indagare su tutto questo mondo che è stato costruito perché poi alla fine non è credibile che la povera Liliana senza senza colpo ferire insomma la sera prima stava stava con amici diciamo comunque a cena a festeggiare e il giorno dopo esce e fa questa messina in scena anche anche riuscita male quindi qualcosa ci deve essere stato e certamente certamente questi sono questi sono gli indizi gli indizi che pesano io penso che siamo anche vicino a una svolta perché è stato anche individuato una traccia di DNA maschile sul cordino che teneva giusto giusto un po' più stretto la busta sul collo anche se sembra che sia una traccia molto labile ma comunque comunque qualcosa deve uscire fuori qualcosa deve uscire fuori e e ci sta anche il reato di induzione diciamo di induzione al suicidio che è un reato è un reato pure abbastanza grave perché significa che una persona diciamo è stata indotta magari anche trovandosi in un momento psicologico poco favorevole di debolezza è andata a finire un come dire un imbuto emotivo dal cui non è non è riuscita ad uscire ma io credo invece che ci siano veramente delle grosse responsabilità questo è quello di cui abbiamo parlato ieri sera veramente a tavola e mi dispiace che alcune persone sono di tipo anche molto superficiale perché vedete giustamente ci sono problemi ben più gravi oggi come sappiamo eccetera eccetera per cui queste notizie di cronica si sentono così giusto in maniera superficiale allora si comincia a dire ma secondo me non mi piace quello quell'altro c'è una brutta faccia quell'altro secondo me mi è antipatico forse sarà stato lui ma io credo che ecco il il mestiere più difficile sia quello di giudicare perché non solo ci vogliono prove ma in tutti i casi bisogna sapere bene tutto e tutti i dettagli non bisogna lasciarsi furviare dall'essere troppo generici va bene quindi vi auguro approfitto per augurarvi buona domenica per quello che resta ancora quindi buona domenica e buon inizio di settimana a tutti un abbraccio e stiamo a vedere cosa cosa succede ciao a tutti ciao